Pecetto è per antonomasi il paese delle ciliegie. Qui ogni anno, nella seconda domenica di giugno, si svolge la famosa Sagra della Ciliegia, ottima occasione per degustare il goloso frutto. La gerasicultura a Pecetto è nata con lo sviluppo di malattie sul vigneto, che ha distrutto, copriva completamente queste colline. A fine 1800 si è sviluppata la peronospora e distruggendo o compromettendo molto i vigneti. Alcuni amministratori, assieme alla parrocchia, ha cercato, ha pensato di sviluppare la gerasicultura in questa zona. La vicinanza di Torino, che rappresentava un buon bacino di mercato, spinse parecchi contadini a piantare ciliegi, confidando tra l'altro nel particolare microclima collinare che già aveva dimostrato di giovare a questo frutto. Così, a poco a poco, si specializzarono e si definirono le varietà classiche piemontesi, molto più dolci delle ciliegie selvatiche e anche di tanti ibridi di recente importazione. Tra le varietà coltivate ricordiamo il garfione di Pecetto. Durone bianco, adatto alla conservazione sotto spirito. La galuccia, durone di colore rosso scuro e polpa croccante. E il martini, cuoriforme, di colore rosso brillante e molto dolce. Nel tradizionale modo di operare, le ciliegie vengono raccolte con lunghe scale di legno a pioli, attentamente, assicurando la totale presenza dei piccioli e operando già una prima scelta dei frutti. Molto importante è, nel periodo primaverile, la fioritura di ciliegie che cambia e connota il territorio pecettese con tutte le sue caratteristiche e con la sua camminata tra i ciliegi in fiore. Grazie. 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 Grazie.